Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi, in questa scatoletta che vedete qui davanti, vi presento Dungeon WC, un gioco gentilmente offertoci per la copia e recensione dalla Dracomaca Games, che io ringrazio di cuore per averci offerto questa copia e recensione, ed è un dungeon crawler, un gioco di carte, veramente molto interessante, tra l'altro piccolino contenuto, da viaggio, tascabile e portabile, ma ve lo dirò un po' dopo in fondo, molto interessante perché ci vede non tanto nei panni dell'eroe che deve fare il dungeon, anche qui presente questa componente dungeon crawler, ma quello che succede ai personaggi fantasy delle vostre avventure preferite quando gli viene un po' lo strizzone e il cagotto. Quindi lo scopo del gioco ve lo potete anche immaginare, ma ve ne parlo a breve dopo la sigla. Dungeon WC, in questa edizione della Dracomaca Games, un gioco da 7 anni in su, ci potete far giocare praticamente chiunque ragazzi, è un cooperativo semplice, ma talmente semplice che davvero ha una pagina di regole, tipo il vecchio Hero, questa cosa, quando li scrivevano al tempo sulle scatole, praticamente uguale, è facilissimo da setupare e tutto quanto, da 1 a 5 giocatori, parlo a valutazione dei miei pensieri, vado in fondo, e la durata media di una partita, dipende poi da come ve la giocate, comunque è tutta quanta rapportata alla clessidra che c'è dentro il gioco, quindi una partita potrebbe durare 5 minuti, 10 minuti, dipende anche dal tipo di da quante volte rigirerete e rilancerete appunto il tempo prima dello scadere. Dungeon VC, ve l'ho detto, è un gioco interessante, fatto ovviamente, lo vedete anche dalla scatola e tutto quanto, per ridere, ed era molto bellino nelle edizioni Kickstarter, perché vi mandavano il mimic a forma di VC, per non dire un'altra parola, che poi mi demonetizzano il video, e era bellino perché c'era questo VC con i denti, la lingua di fuori, a modi mimic di scrigno, molto interessante, ed è un gioco di carte alla fine fine, non è un deck building, voi avete un personaggio scelto casualmente e dovete fargli fare tot tappe fino a farlo arrivare al gabinetto. Lo scopo del gioco è questo qua, perché appunto rivede un po' l'idea per far ridere non tanto dell'eroe che va a fare il dungeon, quanto che li prende all'ostrizione, mette tutto quanto in pausa e scappa al gabinetto, ma per arrivare al gabinetto troverà trappole, troverà nemici, troverà il boss finale che è il grande VC Cthulhu, cioè praticamente Cthulhu uscito dal gabinetto che ti vieta di andare al bagno e te la fai addosso, quindi voglio dire cosa c'hanno in testa, cioè il gioco ragazzi è una figata, però più che altro non è tanto da dire le meccaniche e tutto, come vi è venuto in mente una cosa del genere, andate ce ne vuole di fantasia a fare una cosa del genere, infatti è un titolo veramente divertente e fresco, e questo in assoluto forse più di tutti quelli che ho trattato finora, più di Talisman, ma a livelli proprio di Dixit, come lo uso sempre come esempio, è il gioco più portabile sulla faccia della terra, lo potete trasportare ovunque, portare in qualsiasi tavolo, farete divertire anche perché ragazzi una partita dura 10 minuti, quindi davvero una partitina prima di andare a letto, prima di cenare, ci sta veramente bene. Vi spiego un po' come funziona, vi do un'idea, ma prima di tutto unboxing. Vedete la scatola, molto semplice, il disegno è veramente bellino, col mimic che tra l'altro come vi ho detto c'era nella versione kickstarter, è uno stretch goal e vedete gli avventurieri che scappano al gabinetto, ed è un gioco di Dario Dordoni e Giuseppe Sarci. Apriamo. Regolamento, che bello, io l'ho visto arrivare, ho detto sì, vabbè, è un gioco così piccolo con un regolamento mostruoso, no, 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 è scritto in più lingue, e le regole ragazzi sono veramente velocissime. A parte il setup iniziale, che ci fa vedere come setupare la partita, vedete con i tile, la descrizione e tutto quanto, poi alla fin fine, cioè qui sono praticamente già ferite le regole. All'interno abbiamo vari token, che sono le monetine, i soldi, le carte, che comprendono tesori, mostri, avventurieri, perché poi ogni avventuriero cambia le regole in gioco, e carte dungeon, e il dado, da tirare quello unico grosso da 6 per i combattimenti, altri token nel mezzo, e la clessidra, che è il punto focale di tutto quanto il gioco. Il setup, poi come vedete dall'immagine nel frattempo, è molto semplice. Si prende un personaggio, scelto casualmente che è quello l'eroe della nostra avventura, le si danno tot tappe, fino in fondo, arrivare a distanza, se non erro, messa sul tavolo di 65-70 cm al massimo, la zona finale del WC. Quindi il vostro personaggio, voi dovete tirare fuori i tessere dungeon, per fare una strada e connetterla, ovviamente devono essere connesse a modo, tipo mi viene l'esempio di bitrial at the house on the hill, cioè devono essere connesse. Una strada non può mai finire in un vicolo cieco, perché ovviamente se no il gioco è finito. Quindi dovete creare una strada che porti il vostro personaggio dall'inizio fino al bagno in fondo, e dovete seguirla voi, con i pezzi che andate a montare in un gioco operativo. Però ogni volta che andate a mettere un tile di gioco della mappa, sopra ci potrebbe essere un evento, che potrebbe essere o un tesoro, uno scrigno, o l'incontro con un boss, o una somma da pagare in monetine, per poter appunto andare avanti. E nel setup iniziale ovviamente abbiamo tutte quante le tessere, quattro tessere del dungeon, dove il giocatore corrente può scegliere quale mettere, abbiamo le monete da spendere, che si possono guadagnare uccidendo mostri, mostri che tra l'altro si sconfiggono tirando il dado, fino a che non esce 4+, 5+, 6+, o quanto c'è scritto, e se lo uccidete poi ovviamente in alta a destra vi dà il reward in monete, o se no andando a girare i 5 token, che sono all'inizio disposti casualmente, che sono praticamente token dei 5 sensi, uno per ogni senso. Quindi se c'è un ordine, che ne so, il fatto, vista e cose del genere, voi dovete andare a girare i token, nell'esatto modo, senza mai mischiare, almeno che il tracciato non ve lo dica, che comunque è una regola opzionale, mano a mano che va avanti l'avventura, è che sul tiro di dado vi esce l'uno, che è un fallimento, però se non succedono queste cose qui, non ve le fanno mischiare, voi dovete andare casualmente a vedere, come sono messi i 5 sensi, e devono essere uguali, alla lista, all'elenco che c'è sulla carta del mostro, per poterlo sconfiggere. se che ne so, c'è olfatto e vista, voi girate olfatto e vista, avete superato la prova, se invece girate vista e olfatto, avete sbagliato, li dovete ricoprire un'altra volta, e dovete riniziare. Il problema di questo gioco, anche tirare il dado, tante volte tirare, no 3 o più, no 4 o più, oh finalmente ho fatto il 6 secco, dovete girare la clessidra, la clessidra è il vostro tempo, se la clessidra arriva a 0, avete perso la partita, quindi alla fin fine, dovete spendere monete d'oro, per rigirare la clessidra, e avere il tempo da capo, quindi se la clessidra finisce, la partita è finita, non c'è un vero turno, primo giocatore, secondo giocatore, terzo giocatore, quarto giocatore, giocate tutti insieme, e potete anche dividervi i ruoli, ci può essere qualcuno, che deve tirare i daddico mostri, qualcuno che mette le tessere dungeon, c'è un gioco cooperativo, in tempo reale tutti insieme, non c'è passare la mano, a uno o all'altro, quindi comunque dovete, coordinarvi bene, nel caso giocate in più, giochiate appunto, in più di un giocatore, e alla fine, quando arrivate nella tessera finale, che è quella del gabinetto, dovete aver trovato, nelle carte tesoro, dovete aver trovato, almeno una carta igienica, perché se no, non potete fare l'evento finale, e quando andate alla fin fine, con la carta igienica, nel VC, mi stava per un'altra parola, avete vinto la partita, se invece girate, la carta VC in fondo, visto che sono impilate, tre carte finali, e vi dice che, il VC è chiuso, e c'è da fare un evento, prima dovete risolvere l'evento, e poi avete la possibilità di vincere, non si può vincere la partita, fino a che non trovate la carta igienica, e non arrivate al VC, più o meno questo è lo scopo del gioco, in conclusione, questo dungeon VC, l'avete visto, è un gioco che non si prende troppo seriamente, è un dungeon crawler, è un gioco piccolino, tranquillamente trasportabile, è un gioco che il manuale, è già tradotto in tutte le lingue, più parlate del mondo, anche la nostra ovviamente, e è un gioco veramente ragazzi, molto semplice, divertente, che va bene per fare una serata, va bene per fare uno spareggio, va bene per fare una veloce partita, ma ve lo potete giocare anche in treno, durante un viaggio, una cosa del genere, anche in camper, cioè lo potete giocare praticamente ovunque, anche perché piccolino e si trasporta bene. Io ringrazio ancora una volta la Dracomaca, per averci offerto questa copia review, e vi ricordo che se lo volete acquistare, sul sito in sovrimpressione, vedete, noto in sovrimpressione, primo link in descrizione, da Get Your Fun, nostro sito sponsor, al miglior prezzo sul mercato, se non lo trovate in lista, scrivete al supporto, e diteli, arrivo dal canale di Coridan, ve lo faranno avere, al miglior prezzo sul mercato, è un gioco piccolo, non ve lo starei nemmeno a dire, comunque, se non lo volete pagare tutto insieme, lo potete pagare anche in tre rate, senza nessun tipo di finanziamento, e spedizioni gratuite in tutta Italia, quindi comunque andate a vedere, primo link in descrizione per ordinarlo. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, secondo me ragazzi, è un gioco interessante, ma magari anche perché è da fare con un cuginetto, con un figlio, anche con magari qualche ragazzo, o qualche bambino, che volete introdurre appunto al gioco da tavolo, e ai board game. Ciao ragazzi, alla prossima!